Tragedia a Marina di Montemarciano, nella notte muoiono investiti da un auto, l'ex calciatore del Fano Alberto Catani, di 42 anni e la sua compagna di 39. Ciclista investito da un'auto a Pesero, morto un pakistano di 32 anni che si stava recando al lavoro. Torna il pesce locale sulle tavole dei marchigiani, dopo lo stop forzato per il caro gasolio, le imbarcazioni sono tornate in mare. Sabato al Via Passaggi Festival a San Costanzo, primi ospiti saranno Andrea De Logo e Veronica Pivetti, domenica sarà la volta vice di Iva Zanicchi e Catena Fiorello, lunedì inaugurazione a Fano. Oltre 6.000 alberi e arbusti verranno piantati nell'area dell'ex campo d'aviazione a Fano, nascerà così un grande bosco urbano a due passi dalla città. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Allora apriamo il nostro telegiornale con il tragico incidente che si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte a Marina di Monte Marciano in provincia di Ancona, dove hanno perso la vita, Alberto Catani, ex calciatore di 42 anni, che aveva militato anche in Serie C con la Vispesero e il Fano, e Stefania Viterbo, originaria di Bari, di 39 anni. La coppia stava percorrendo il lungomare di Marina in sella alla bicicletta e stava tornando, dirigendosi verso casa, quando è stata letteralmente falciata da una Fiat Panda guidata da una donna di 38 anni. I due sono morti sul colpo, mentre l'auto fuori controllo si è ribaltata finendo contro un camper in sosta. Insieme alla conducente viaggeva anche la figlia di 9 anni che è rimasta lievemente ferita. Alberto, rappresentante di prodotti alimentari, era un grande appassionato di calcio e aveva militato come centrocampista in squadre come Vispesero e Fano. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Montemarciano e del NORM di Senigallia. In base ad una prima ricostruzione, pare che l'auto stesse viaggiando nella stessa direzione delle biciclette e che dopo l'impatto la coppia sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio pubblicati sui social anche da parte delle società di calcio Biagio Nazaro di Chiaravalle e dell'Alma Juventus Fano. E un altro incidente mortale si è verificato questa mattina, poco prima delle 6 a Borgo Santa Maria nel comune di Pesero. A perdere la vita è stato Ali Arshad, un pakistano di 32 anni che si stava recando al lavoro in bicicletta. L'uomo è stato investito da una Ford Puma in via Monteggiano all'incrocio con la strada di Monte Chiaro. Tempestivo l'arrivo dei sanitari che hanno allertato l'eliambulanza, ma il 32enne purtroppo è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Invece ne è uscita illesa ma sotto shock la donna di 54 anni alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. E adesso parliamo invece del fermo pesca causato dal caro gasolio. Le barche, questa è la buona notizia, sono tornate in mare garantendo quindi il pesce fresco a livello locale. Simona Zonghetti. Una vera e propria tempesta si sta battendo sul comparto della pesca e rappresentanti di uno dei settori più trainanti dell'economia stanno vivendo momenti difficili per una crisi che si trascina da mesi e che ora si è aggravata a causa del caro gasolio con ripercussioni sull'indotto e con migliaia di posti di lavoro a rischio. Dopo essersi fermati per sollecitare un intervento del governo i pescherecci sono tornati in mare e finalmente anche nel mercato di piazza Andrea Costa da qualche giorno si vende il prodotto ittico nostrano. Sulle tavole dei fanesi è tornato il pesce dei nostri mari? Sì, le barche sono tornate a pescare questa settimana, il pesce fresco c'è, quindi anche i prezzi sono buoni anche se l'aumento del gasolio è sempre quello. Il pesce fresco c'è e costa il giusto, non è che è esagerato, anche se costa il gasolio. Da quando è finito lo shop? È finito l'altra settimana, da martedì abbiamo iniziato a lavorare col pesce fresco. Pesce che va per la maggiore? Allora, le soliole, i melluzzi, i rospi, le trilie, il pesce fresco è questo, le inocchie. Molte clienti mi hanno chiamato stamattina a chi chiedono, a chi abitano lontano, magari a Fossombrune, Lucrezia, Caccinelli, perché non possono venire a voto, chiamano, è finito il shopper, chiedono quello, perciò diciamo che il shopper è finito, le barche sono tornate al mare, pescano normale, il pesce c'è. Invece il fermo pesca, proprio quello biologico, quando ci sarà, in che periodo è? Fino a giulio, sempre, non so se il 29 di giulio fermano per 40 giorni, mi sa. Questo pensa che possa mettere ulteriormente il mercato in difficoltà, questo fermo pesca? No, 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 non metto in difficoltà, tanto bisogna che si fermano per un po', no, penso di no. Finito lo shopper, che cosa si acquista di più? Più di tutti i merluzzi, perché il pesce si pesca meglio, più quantità, le soglie lo stesso, di quei soglie di merluzzi che poi sono a buon prezzo, costano poco, la gente compra tutto, le solite alicette le abbiamo sempre vendute, le vongole, la gente non è ricchissima, in quei periodi cercano di spendere pesce da 5 euro, ma anche le soglie non sono grosse, però buone e costano poco, 10 euro. Con questi prezzi che noi paghiamo ai marinai poco, loro non riescono a superire le spese tante della nafta raddoppiata e allora così non credo che vada a finire bene. Ci troviamo bene noi perché i prezzi vengono in tanti, li paghiamo giusto, ma si trovano male loro. Invece il fermo pesca pensa che possa danneggiare ulteriormente la situazione? Sì, il fermo pesca danneggia perché tanto è un mese e mezzo in cui potresti rifarti. Io quando ho iniziato negli anni 70 puntavo sul mese di agosto e mi valeva 10 mesi perché c'era anche più turismo. Questo mese, luglio e agosto, io guadagnavo tutto quello per l'anno e ci puntavamo noi tutti i frutti vendoli. Poi è arrivato questo fermo pesca, non è che solo rovina il lavoro e che non guadagni, ma rovina anche le reputazioni delle città perché va in giro tutto estero congelato. Chi viene davanti al mare convinto di mangiare il pesce fresco si mangia uno spedino di gamberi dell'Equador. Ai marinai spero almeno pureti che glielo pagano, che gli spedano, non per il guadagno, ma per la gente che viene. Una città così carina, romana, una forse la più bella delle marche, la gente tranquilla e proporgli a questi stranieri la porcheria, questa è proprio l'unica pecca che ci fanno perché se no c'è tutto fanno. Lei stamattina qua al mercato che cosa ha comprato di buono? Ho comprato delle sogliele. E invece per quanto riguarda i prezzi sono più o meno gli stessi? Non è tanto il prezzo ma è la qualità, non mi è mai capitato di cucinare un pesce che non fosse fresco. Gioni di sciopero invece ha acquistato pesce oppure ha rinunciato? Ho rinunciato, sì. Adesso si torna ad acquistarlo. Questa mattina ho comprato la razza e ho comprato un chilo di sogliele. Lei nel periodo in cui c'era lo sciopero non l'ha acquistato? Non l'ho acquistato, fortunatamente sono una che fa delle mucche quindi quando vedo qualcosa che mi piace ne compro un po' di più e lo metto da parte quindi c'avevo il congelatore comunque sia che c'era. Un forte boato oggi ha destato preoccupazione tra gli abitanti di Monbaroccio, siamo in provincia di Piesurbino, in particolare i residenti di Montemarino dove una sessantina di gabbie di lepri, fortunatamente vuote, sono andate a fuoco nell'allevamento situato in mezzo ad un bosco. L'allarma è scattato intorno alle 13.30. Il proprietario del terreno poco prima aveva disinfettato le gabbie mediante una fiamma alimentata da una bombola di gas GPL che è esplosa nel momento in cui l'uomo è andato a pranzare. Sul posto i carabinieri forestali, i militari della stazione locale, l'ufficio viabilità della provincia, la polizia locale, i vigili del fuoco di Pesoli di Fano con cinque mezzi fuoristrada. I pompieri, che hanno lavorato fino alle 6 del pomeriggio, sono riusciti a spegnere il rogo e a limitare l'incendio che ha interessato poca vegetazione circostante. Un incidente autonomo si è verificato invece oggi pomeriggio poco prima delle 17.30 sulla strada comunale della Serrata, nelle vicinanze del ristorante Biricocco a Bellocchi di Fano. Un 55enne di Cartoceto era a bordo di uno scooter Honda quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale, ma non si esclude una distrazione da parte dell'uomo. Il 55enne, che ha riportato lesioni, è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce in codice verde. Nella zona dell'ex campo d'aviazione di Fano è prevista nei prossimi mesi la realizzazione di un nuovo bosco urbano con la piantumazione di oltre 6.000 alberi e arbusti. Filippo Pucci Il comune di Fano realizzerà un nuovo bosco urbano nella zona dell'ex campo d'aviazione. L'intera area, oggetto di intervento del nuovo parco cittadino, vedrà dunque la piantumazione di oltre 6.000 piante autoctone e arbusti. L'intervento verrà realizzato da Arbolia, una società benefit creata da Snam Retegas e Fondazione Cassa Deposito e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia. In passato questa realtà ha contribuito alla nascita di diverse zone verdi nel territorio nazionale come ad Udine, Torino, Padova e Pisa solo per citarne alcune. Il nuovo bosco di Fano sorgerà a fianco della strada di Via Papiria. È un progetto che riguarda complessivamente circa 4 ettari e mezzo di terreno. Riguarderà la messa a dimora di 6-7.000 piante e saranno appunto piantate e gestite per i primi due anni da Arbolia che appunto collabora col comune di Fano per un investimento di circa 100 mila euro e sarà pagato appunto dagli sponsor e da Arbolia e saranno messe a dimora piante autoctone nei terreni comunali. Intorno a questo bosco nasceranno dei percorsi ciclopedonali che renderanno questa parte del parco urbano anche fruibile e più fruibile rispetto adesso. Dopo anni anche di abbandono quell'area potrà essere valorizzata e certamente in maniera molto positiva. Oltre a questo verrà realizzata una nuova pista ciclabile a fianco di Via Papiria per consentire a ciclisti e pedoni di transitare in sicurezza su tutto il tratto. Niente lago artificiale per il momento, al suo posto un grande prato verde. Arbolia ci ha comunicato che interverrà con la messa a dimora nel periodo da novembre a febbraio e quindi per la prossima stagione estiva avremo questo bosco. Inoltre nell'area adiacente all'intervento indicato ad Arbolia di 4 ettari e mezzo circa ci sono circa 2 ettari che saranno oggetto di ripiantumazione da parte di società autostrade. Quindi complessivamente quell'area avrà circa 6-7 ettari di bosco urbano. Durante la presentazione del progetto presenti il responsabile dell'operazione di Arbolia Dario Manigrasso, l'architetto Adriano Giangolini, il vice sindaco Cristian Fanesi e il primo cittadino Massimo Seri. È un'iniziativa importante che è una risposta anche all'ambiente, sappiamo i benefici che portano queste infrastrutture ambientali e questo è una bella partnership tra il comune di Fano e Arbolia e questo per loro sarà il progetto, hanno già realizzato in 18 città dei progetti, ma questo sarà il più grande ad oggi. Quindi è una bella iniziativa, ripeto, che porterà benefici ma sta dentro un progetto più ampio che quello di un parco urbano, in questo caso anche una forestazione urbana in un'area di 30 ettari che sta vedendo già l'analizzazione del secondo e terzo stralcio, ci saranno altri interventi che porteranno anche molte persone a frequentare quel luogo, quindi è un bel momento, la soddisfazione poter lanciare questa nuova iniziativa che verrà realizzata nel periodo invernale perché ovviamente le piante devono essere piantumate nel stagione idonee. Sette arrestati, 42 indagati, 330 mila persone controllate. Il bilancio dell'attività della polizia che si è svolta nel secondo trimestre di quest'anno nelle stazioni ferroviari di Marche, Umbria e Abruzzo. Gli agenti hanno anche elevato 30 sanzioni e rintracciato 14 minori non accompagnati che sono stati restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Tra gli interventi rientra quello del questore di Ancona che ha emesso il DASPO urbano con accesso interdetto alla stazione ferroviaria locale nei confronti di un quarantenne residente nella provincia di Pesurbino trovato più volte lì in stazione in evidente stato di ebrezza. Dopo le risse e gli atti di vandalismo registrati nei luoghi del divertimento pesarese, il prefetto Tommaso Ricciardi ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A riguardo verranno aumentati i controlli da parte delle forze di polizia e i gestori degli stabilimenti balneari dovranno farsi carico di far presidiare i propri locali da parte di steward regolarmente iscritti nelle liste prefettizie. Il numero di addetti dovrà essere calcolato in base alla capienza del luogo. Inoltre il Comune dovrà provvedere sia ad emanare ordinanze, come per il divieto di vendere alcolici in contenitori di vetro, sia ad implementare il sistema di videosorveglianza con telecamere collegate, oltre che con la centrale operativa della Polizia Locale e anche con quelle della Questura e dell'Arma dei Carabinieri. E adesso ci spostiamo nell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, dove 51 operatori dei servizi pubblici e privati hanno seguito un percorso di formazione per migliorare la qualità dei servizi offerti ai migranti. Tutti quelli che vengono qua si devono sentire in una comunità. E' orgoglioso dei contenuti innovativi del progetto EM e della disponibilità dei dipendenti pubblici che grazie alla formazione contribuiscono a migliorare l'accoglienza di migranti e la qualità dei servizi a loro destinati. Palmierucchielli, Presidente dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e Sindaco di Vallefoglia, ha presentato i risultati dell'iniziativa che ha coinvolto 51 operatori, tra cui assistenti sociali, vigili urbani e ufficiali di anagrafe, che hanno potuto approfondire il tema e analizzare criticamente stereotipi e pregiudizi. Un progetto molto importante che ricade sui sei comuni dell'Unione e anche negli altri quelli che non fanno parte dell'Unione, che sono confinanti, finanziato all'Unione Europea dal Ministero degli Interni, finalizzato insieme agli altri attori, all'Università, alla Cooperativa, alla Caritas, all'Ambito Sociale, a includere tutti quelli che vengono dall'Italia, dall'Europa e dal mondo in questo territorio. Sono convinto, ha proseguito Chielli, che il cambiamento del Paese debba passare attraverso il potenziamento delle competenze della pubblica amministrazione, accanto all'attività di formazione. Poi, Emma ha permesso di mappare l'organizzazione del territorio. Nei sei comuni dell'Unione operano 112 centri coinvolti nei processi di integrazione. In questo modo, operatori dei comuni, dei servizi scolastici e sanitari, utilizzando la rete e le tecnologie, saranno in grado di intercettare meglio i beneficiari e di erogare i servizi in maniera più efficace. Quindi un progetto molto importante che si concluderà il 24, una sala del Consiglio dell'Unione a Pia del Bruscolo e che ha dato, secondo noi, un risultato molto importante sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano della coesione e dell'inclusione di un territorio che ha una fortissima immigrazione e che ha mantenuto una sua coesione. Il luogo in cui c'è crescita, c'è lavoro, c'è occupazione, c'è sviluppo. Ci sono, diciamo, molte imprese che lavorano col mondo e che sono in fortissima crescita, quindi direi che è l'unico nel programma regionale e anche nazionale. Automobilisti fanesi, armatevi di pazienza nei prossimi giorni perché da lunedì 27 giugno e fino all'8 di luglio verranno effettuati i lavori di asfaltatura lungo una delle vie forse più trafficate e importanti della città di Fano, di grande viabilità. Viale Piceno. La strada diventerà senso unico alternato con l'inserimento di un impianto semaforico e di vieto di sosta con rimozione su ambo i lati, a partire dalla rotatoria di via Arcevia fino a via Fragheto. In quest'ultima ci sarà un restringimento della carreggiata e verrà imposto il limite di velocità a 30 km orari. Le modifiche saranno attivate dalle 8.20 alle 12 e dalle 14 alle 18, eccetto sabato, domenica e i giorni festivi. I sindaci di Fano e Pesero e il presidente della provincia Paolini sono al lavoro per la ferrovia di Fano. Ricci è stato al Ministero delle Infrastrutture a Roma per ribadire l'importanza di aggiungere alla variante di Pesero anche il nodo di Fano, spiegando che le due città possono avere caratteristiche simili nel tipo di arretramento della ferrovia e una nuova stazione in grado di tenere insieme sia passeggeri che merci. Anche i tecnici sono già al lavoro per ipotizzare i tracciati da inviare al Ministero e alla Regione Marche in attesa della visita del Ministro Giovannini il 1 di luglio. Intanto, ha spiegato Ricci, il Comune di Fano dovrà individuare la collocazione della nuova stazione ferroviaria. Tra poco più di una settimana partirà la Summer School del Centro Studi Vitruviani, confermato il sostegno delle Università di Urbino e Ancona. Prendere al via lunedì 27 giugno a Palazzo San Michele a Fano la prima edizione della Vitruvius Summer School, un corso di approfondimento sui temi vitruviani che si snoderà fino all'8 luglio. Ad oggi sono 10 gli allievi iscritti, tutti laureati, specializzanti o dottorandi di ricerca in architettura, storia dell'arte e archeologia. Sarà un corso di alta formazione con i più importanti studiosi a livello mondiale di Vitruvio, ci saranno lezioni frontali quindi diciamo delle mini conferenze potremmo dire e delle esercitazioni sui manoscritti vitruviani quindi sulla lettura dei testi e sul rilievo architettonico e ci saranno anche ovviamente delle visite nel territorio Urbino, Fano e altri luoghi importanti della nostra vallata. Il centro studi vitruviani è impegnato anche nella rivista Vitruvius il primo numero verrà presentato nel corso di passaggi festival venerdì 24 giugno alle ore 18 nella chiesa di San Francesco. Queste iniziative, ha sottolineato il sindaco, fanno parte di un percorso su cui abbiamo puntato in questi anni. Un modo per far conoscere la nostra città ma soprattutto il valore di altissimo livello perché tutto il comitato scientifico che come noi sappiamo è di prestigio internazionale e mondiale nel vero senso della parola saranno qua per questa Summer School quindi è una Summer School di altissimo livello per cui non posso che manifestare la soddisfazione ma è anche un percorso e un'ambizione che il centro studi vitruviani ha nel proseguire e nel far conoscere Fano e Vitruvio la sua opera nella nostra città al mondo. Il progetto è stato possibile anche grazie all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bò che ha inserito l'iniziativa tra i suoi corsi di specializzazione post laurea con rilascio di crediti formativi. Ci stiamo lavorando tanto su tante cose, rapporti con imprese, con enti pubblici con associazioni di volontariato cerchiamo di mettere a disposizione i risultati delle nostre ricerche quindi la nostra conoscenza anche al servizio del territorio. A confermare supporto anche l'Università Politecnica delle Marche al lavoro per ulteriori progetti. Proveremo a verificare la possibilità di cofinanziare con l'Università di Urbino dei percorsi di dottorato su queste tematiche sapendo che l'approccio, viene bene anche questa collaborazione tra le università è sempre di tipo multidisciplinare cioè ormai si sta abbandonando la logica di entrare in maniera molto verticale su un tema senza invece fare riferimento a tante discipline che possono dare contributi molto forti quindi se pensiamo al tema culturale pensate solo alle nuove tecnologie al digitale quindi ce n'è da aggiungere in continuazione. Adesso parliamo di cultura, parliamo di Passaggi Festival alle mie spalle ci sono già i primi volti che daranno il via a questa nuova edizione che è la numero 10 di Passaggi Festival si comincia da San Costanzo dove domani, sabato, ci sarà l'appuntamento con Andrea De Logu e Veronica Pivetti domenica invece sarà la volta di Iva Zanicchi e Catena Fiorello mentre lunedì il Festival tornerà, vedete, in piazza 20 settembre a Fano per una settimana di eventi con oltre 200 ospiti alle 20.30 ci sarà l'inaugurazione in piazza 20 settembre a cui seguirà l'incontro con Vittorio Sgarbi che presenterà il suo ultimo libro a Mondolfo invece si è aperta con grande successo di pubblico la rassegna letteraria come un libro aperto protagonista del primo incontro lo scrittore e fumettista Matteo Bussola che ha presentato il suo libro Il tempo di tornare a casa il prossimo appuntamento inizierà tra poco alle ore 21 i Giardini della Rocca ospiteranno Marina Ray con il libro intitolato Un giorno nuovo e dalla letteratura all'arte con la mostra personale di Doro Catalani che verrà inaugurata sabato sera a Villa Bassa al prelato di Fano In questi due anni nonostante le difficoltà e anche le varie limitazioni l'arte e la voglia di emozionare non si sono mai firmate questo fine settimana a mettere in mostra le sue ultime opere come ha intitolato la personale? L'ho intitolata De Camerone 2022 qualcuno si è un po' spaventato di fronte a questo titolo ho pensato chissà cosa combina quest'anno Doro Catalani niente di preoccupante, al massimo dico ai ragazzi oltre Kikibio non ci sarà, tranquilli qualcuno ha avuto paura però eh? Come è nata l'idea? È nata l'idea perché nel 1348 Giovanni Boccaccio racconta la peste e dieci giovani di cui sette ragazze e tre ragazzi fuggono dalla città e vanno in una villa in campagna tra le colline oltre Firenze noi abbiamo avuto il Covid, quarantena e tutti i vari problemi in più la guerra, i rischi e anche noi abbiamo bisogno di asciugare i nostri pensieri al sole quindi stare un po' in pace in un'isola serena come rappresentato in questo quadro nonostante il bombardamento e il campanile della stazione un po' in bilico ecco, quindi abbiamo bisogno anche noi di un po' d'arte un rifugio per l'anima Quando e dove si terrà l'inaugurazione? L'inaugurazione sarà sabato sera alle 21.15 fino a tardanotte poi avremo la seconda parte domenica pomeriggio dalle 17 in poi Villa Bassa al prelato, ingresso libero, basta prenotare E saranno presenti anche diversi attori, scrittori, artisti? Mi piace contaminare, non soltanto presentarmi con i miei quadri sarà una bella retrospettiva con le ultime produzioni ma la contaminazione durante questo percorso che avverrà all'interno del prelato della Villa Bassa ci saranno varie situazioni molto intriganti poi fuori tutto lo spettacolo che sarà composto da personaggi validi che ormai conosciamo quasi tutti dall'esperienza comune che racconteranno qualche cosa della loro vita per così, per condividere abbiamo bisogno anche di parlare in questi giorni di promozione ho conosciuto gente che in tre secondi mi raccontava tutta la sua esperienza di vita e anche le sue sofferenze quindi credetemi è un momento senz'altro benefico per la nostra anima E ripartono anche le feste di quartiere dopo lo stop dovuto alle restrizioni ripartono, sto parlando delle feste di quartiere a Fano da Centinarola per esempio stasera da stasera fino a domenica c'è l'evento dedicato al divertimento alla musica ma anche al cibo ci sarà la degustazione della trippa i fagioli e tante altre specialità culinari ma anche appunto musica, cibo e volontari animeranno le tre giornate al parco di via Monfalcone ripeto nel quartiere di Centinarola e tra le novità mi segnalano qui anche i dolci preparati dal parroco Don Federico che sono tutti da assaggiare intanto noi come Fano TV ringraziamo di vero cuore Olivia Sabatini che ci sostiene anche economicamente quindi grazie tra poco le previsioni del tempo noi ci vedremo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali grazie per averci seguito e arrivederci grazie